Grazie a tutti. Dove sei seduto tu? Ascolta un'idea, lo sanno. Rupert saluta a tutti, dai che ce ne andiamo. Saluta la maestra, che ce ne andiamo e saluta i tuoi compagni. Ciao a tutti. E' sempre che si mette davanti. Rosaria, per cortesia. Grazie, Rosaria. E' la seconda volta. Allora, come è stato? Non ti è piaciuto? Giorgio, come sei grande? Adesso le belle cose le farai dopo. Oggi è il primo giorno che vi siete conosciuti. Voi iniziate a fare scherma. Adesso vi dovete sistemare. Ma non ce ne sono bambine carine? Non ce ne hanno una mamma. No, mamma, io ne vedo tante carine. Sì, mamma. Salve. Sì, è davvero un po' di nostalgia. No, ciao. Ciao. Un po' di nostalgia. È davvero un po' di nostalgia. Rupert, domani vuoi venire? Devi venire per forza. Se no non ti faccio vedere più la televisione. E passa i compisini oggi? Ah? Allora dimmi, ti piace sta scuola o no? Ma come mai? Ah, mi hanno fatto vedere una chiesa. E allora ti piace? Ma cosa avete fatto oggi? Mi racconti un pochettino? Niente. Come niente? Vi siete guardati solo in faccia? Non vi siete presentati? Tu chi sei? Io sono Ruben. Vengono da New York. Una cosa, papà. Siamo andati solo fuori a giocare. Io mi sono fatto solo un giro nello sciro. C'era solo quel gioco. Mamma mia. C'era l'altalena pure, Luca. No, siamo andati in un altro posto a giocare. E dove, Gioia? E non ci sono compagnette che ti piacciono? No? Vabbè, allora telefono a Paola, stasera la faccio venne lì, da te, ok? Parlerò col papà. Ti dico, senti, Ruben va a questa scuola, la mandi pure tu lì a Paola. Vediamo cosa mi dice, va bene? Sì, però ormai l'hanno presi tutti i posti. Sì, sono tutti pieni, sono. Ma quanti bambini siete? Per me fa. E non hai contato? Sì, sono 23. Sei sicuro? Caspita, siete assai siete. E beh, poi cosa avete fatto? Chi è i tuoi compagnetti che ti sei trovato meglio? Come si chiama? E la maestra come si chiama? Poi? Mamma, non ti ricordi come si chiama la tua maestra? Mamma mia. E c'era anche la maestra l'inglese là. Ah sì? Senti, vuoi che ti rimando la tua vecchia scuola allora? No. Ah, vuoi stare a questa allora? Non vuoi proprio andare a scuola? Sto, te lo sogni! Ti lego in casa, ti lego. Perché poi fanno il creste qua, con la piscina. Vabbè, ma adesso ti abituerai, adesso oggi non avete fatto niente, domani vedrai. Mamma, domani c'è pure la musica. Hai visto, ciccio? Mamma, oggi mi hanno incolpato a me per l'acqua che è caduta, invece non sono stato io. E chi è stato a dire che sei stato tu? La maestra. Mmm, sta maestruccia, e poi se ne accorta che ha sbagliato? No. Non se ne accorta? Va bene, domani gli faccio vedere questo video alla maestra. Ok? E chi era stato a buttare l'acqua? Io no. Un compagno mio. E sai come si chiama? E lui non ha avuto il coraggio di dire che sono stato io? E vabbè, non sono tutti uomini forti e coraggiosi come te. Giusto? Tu l'avresti detto, no? Va bene, va, non ti preoccupare, ognuno, vuol dire che la maestra ha visto te. No, l'ha visto dopo. Ah, quindi poi se ne accorta che non sei stata tu. Ah, non se ne accorta. Ah, ha visto dopo quello che era successo. Va bene. Dai, che adesso giochi, dai. Se tu ti comporti bene a scuola, ogni giorno ti faccio dormire di meno, va? E poi oggi non ti faccio andare a letto. Ci stai? Domani ti faccio dormire poco poco, se ti comporti bene. Papà, a scuola sai cosa abbiamo fatto? Cosa avete fatto? Io ho conosciuto, ho conosciuto una stanza dove si festeggia con tutti gli altri. Ah, sì? Non hai conosciuto, hai visto una stanza? Ok. Che vengono mamma, papà, amici e si balla. Ho capito. E le feste più importanti. Ho capito. E si va solo quando ci sono le feste più importanti. Ah, ah, ah. E vabbè, vuol dire che quando farai il compleanno ti mando lì. Ma tu non lo sai, Ruben. Ma tu lo sai, Ruben, che oggi faceva il compleanno da bambina. E come si chiama questa bambina? Giulia. Allora l'ha imparato qualche nomacchiotto, eh? Vabbè, domani io non ti accompagno a scuola però, sai? Perché? Devo stare al lavoro domani. Mamma mia che occhione! Vabbè, chiudo, va. Sta incominciando a rimbambire, Ruben. Meglio chiudere. Perché? Va bene, questo primo giorno non è andato tanto bene. Vediamo il secondo. Va bene? Sì, sì, cava degli occhi di nuovo. Cava però. Ciao! Ciao! Ciao!